A quasi 100 anni da quella tragedia, si è svolto nei giorni scorsi un convegno per commemorare il terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915 e l'entrata in guerra dell'Italia nel maggio dello stesso mese. Un incontro che si è svolto nella splendida cornice di Palazzo Torlonia ad Avezzano, al quale hanno partecipato molti studenti provenienti da alcune scuole di Avezzano, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti del comitato dell'istituzione del centenario del terremoto, l'ambasciatrice della Romania, Dana Costantinescu, l'ammiraglio Romano Sauro e il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. È un modo, ha dichiarato il sindaco di Avezzano, per ripercorrere la storia dei nostri antenati che hanno affrontato a testa alta i giorni successivi al terremoto del 15 e per questo, ha concluso Di Pangrazio, rivolgendosi ai giovani, è fondamentale la vostra presenza perché voi siete il futuro di questa terra ed è doveroso che conosciate la storia. Il convegno è stato un'occasione per rinsaldare i rapporti di amicizia tra il popolo italiano ed il popolo rumeno, attraverso il ricordo degli oltre 3.000 prigionieri rumeni detenuti ad Avezzano tra il 1916 e il 1919 nel corso della Grande Guerra.